Siamo quasi arrivati. Ma ciao! Attenzione alle strutture, attenzione alle strutture. Mi sono dimenticato dalla volata. Eh già già, dai che trafirmo, dai! Dai, dai! Domenico, dai che filmo, salutala! Ciao, sono contentissimo di essere arrivato, di aver terminato anche questa cicla turistica. E oggi divano, gran premio, giro. Non passiamo dalla piazza, vero? E l'orio la cicla turistica, realizzata dall'Unione Ciclistica Cigliana, 145 parisari che hanno percorsi a 60 km. Eh ma forse è chiuso il traffico. Ah, c'è la pista, vero? C'è la cosa delle... Della intercutura. Esatto. Siamo a chiamare che sono tutti i bagazzi. Vabbè, un segno, è attuale. È attuale. Non è mica registrato, non è? Sì. Ovvero. Anche, giorni, arriva la cicla turistica, attenzione alle macchine, attenzione alle macchine. Non arriva la cicla turistica, portiamo a sinistra, siamo arrivati. Castiamo a sinistra, siamo arrivati. Sì, avve, versati. No, attento, crossato, ciao! Grazie a tutti!